Così vedo che possiamo continuare. Vedo che va tutto bene. Adesso io presento a tutti voi questa bellissima applicazione che è stata creata per i businessmen. I programmatori hanno superato ogni problematica e quando ho conosciuto questa applicazione non riuscivo a credere che è possibile. Non pensavo che qualcuno possa così unire tutte le opzioni migliori per il business. Guardate, non mi è rimasto nient'altro come innamorarmi di questa ottima opportunità e quindi adesso vi sto presentando questa piattaforma digitale per le piccole e medie imprese nonché per i centri commerciali progettata per connettere imprenditori e clienti. Guardate, il vostro business esiste grazie alla clientela e la nostra applicazione non è il servizio cashback come tanti altri che ci sono. Sul mercato il nostro soft è un soft gestionale che vi aiuterà di aumentare il vostro servizio, la qualità del vostro servizio e automatizzare tanti processi di business di cui andiamo a parlare in dettaglio. Cambiamo per la slide. E prima di iniziare vorrei presentarmi, mi chiamo Sergei Kansky, sono comproprietario del portafoglio di investimenti globale, sono un investitore privato. Mi piace tanto il progetto YouGain, quindi ho deciso di fare il curatore di questo progetto in Russia. Sono imprenditore con più di sette anni di esperienza e guardate, ancora all'età di sei anni ho iniziato a vendere giornali. Guardate, affittavo il mio pc mentre i miei genitori erano fuori, erano in ufficio. Poi ho venduto tattoo che stampavo con la mia stampante. Poi ho fatto anche questa collaborazione con il miglior studente. Il miglior studente faceva i compiti per tutti, io li copiavo e poi li vendevo. Subito dopo la leva merettare ho aperto tre negozi, poi ho lavorato anche con la franchising, eccetera. E questo grande percorso mi ha fatto capire tante cose. Quasi tre volte ho avuto la decisione di lasciare questo business. Ogni business e guardate, come tanti altri di noi io avrei voluto lasciare tutto tante volte, ma poi sempre di superare tutte queste problematiche. E guardate, adesso anche nella chat ci sono le persone che pensavano di lasciare tante volte, pensavano di lasciare perdere, andare a cercare il lavoro dipendente. Se siete d'accordo con me mettetemi più nella chat. Ma guardate, ogni volta quando ho detto di no a me stessa, quando ho deciso di superare la situazione difficile, di superare la pandemia, di superare ogni problema, sono cresciuto. Guardate, non voglio stare nella situazione di stagno, voglio crescere in continuazione, quindi decido più volte di rimanere imprenditore. E guardate, se ti bussano nella porta, i problemi ti bussano nella porta e tu dici no vabbè, io rimanco qua sul divano perché sono abbastanza pigro, mi piace di stare così. Invece è così le problematiche entrano e le problematiche ti portano via tutto, anche se non hanno la chiave e riescono ad entrare alla stessa. Invece se tu ti alzi e vai ad affrontare questi problemi alla porta, allora riesci a superare ogni situazione. E l'applicazione YouGain è proprio la possibilità di superare ogni problema, di uscire sull'altro livello. Quindi, per favore, adesso togliete tutte le cose che vi distraggono e datemi 20 minuti di tempo. Io cercherò di spiegarvi tutto quello che riuscite a ricevere insieme alla nostra applicazione. E guardate, questo è la seconda cosa che ho capito ben chiaro mentre facevo l'imprenditore. Il mio successo dipende dalla soddisfazione del mio cliente. Quando riesco ad ascoltarlo, quando riesco a sentire le esigenze, quando riesco a soddisfare queste esigenze, quando faccio del tutto per farlo andare via in questa condizione come la ragazza dell'immagine sulla sinistra, io sapevo che il mio cliente torna e questo cliente torna un mese dopo l'altro, anno dopo l'altro, acquista sempre più cose e porta anche i suoi amici, porta anche i suoi parenti. E quando invece i profitti scendevano e io dovevo andare a servire i miei clienti personalmente, io sapevo che da quel momento il mio business inizia a crescere. Invece, che cosa vedete sull'immagine di destra? Cosa vi dice questo cliente? Cosa vi dice questa ragazza? Qualcuno potrebbe dire, non è rimasta soddisfatta del servizio? Qualcuno potrebbe dire, ha acquistato una merce guasta, ha acquistato una merce di cattiva qualità? O forse non l'hanno semplicemente salutata? O forse sono stati scortesi, sgarabati? O forse il problema che lei ha avuto dentro un vostro business i vostri dipendenti non hanno potuto risolvere oppure non l'hanno voluto risolvere e forse lei come proprietario non lo sa nemmeno. Quindi la domanda principale è perché succede così? E la risposta è molto chiara e molto semplice. Il titolare non sempre può stare dentro il suo business 24 ore su 24 oppure ha più punti di vendita. A volte noi andiamo a fare una vacanza e guardate, a volte ci mancano le tecnologie, le tecnologie di amministrazione per avere il feedback della nostra clientela, vedere le esigenze del cliente, reagire subito e motivare anche il nostro personale di lavorare in modo molto gentile e di qualità. Allora, cosa vi dà il game business? Vi dà la riduzione di costi pubblicitari. Guardate, normalmente un imprenditore da 5 al 20% invia per la pubblicità, ma non sempre noi possiamo capire da dove è arrivato un cliente e quindi non capiamo se queste spese sono state efficace. A volte gli imprenditori non iniziano nemmeno di utilizzare la pubblicità. YouGain vi dà lo spazio pubblicitario del tutto gratuito e qua voi potreste pubblicare le offerte, pubblicare le vostre promozioni, pubblicare le notizie importanti. Quindi avete uno strumento di marketing aggiornato e innovativo che vi darà la possibilità di attirare l'attenzione dei clienti del vostro business e questo vi darà la possibilità di diminuire le spese per la pubblicità. Quindi voi arrivate al punto dell'aumento del numero degli acquisti ripetuti. Normalmente solo il 25% dei clienti tornano e dove sono altri 75%? Guardate, grazie YouGain voi avete i programmi motivazionali che stimolano la vostra clientela di tornare da voi e di fare acquisti ripetuti. Un'altra cosa importante è la crescita della database dei clienti. Questa è la questione sempre molto drastica perché spesso e volentieri gli imprenditori non sanno dove trovare i nuovi clienti. E noi qua parliamo sia di attrazione di clientela nuova, sia di come tenere la clientela già esistente. Allora, se anche voi volete far crescere la vostra database dei clienti, mettetemi per favore più nella chat. In più abbiamo l'accessibilità in tutto il mondo. Se voi prima lavoravate soltanto nella vostra città, adesso aprite le frontiere. Potreste portare il vostro business in online, ricevere gli ordini direttamente dall'applicazione, lavorare in tutto il paese e lavorare in tutto il mondo perché la nostra applicazione è internazionale. In più vi proponiamo il miglioramento della qualità dei clienti. E questa è una delle funzioni del titolare, del dirigente, molto e molto importante perché se non facciamo nulla il nostro business può ovviamente diminuire il fatturato quando il nostro servizio non è all'altezza. guardate, ho scosato un attimo che mi sta finendo la batteria. Un attimo, prego. Scusate per questo piccolo ritardo e adesso vi racconto le altre cinque funzioni. Allora, cosa ti dà YouGain? YouGain ti dà l'interazione con il cliente, che ti dà la possibilità di costruire questo rapporto quasi di amicizia che darà la possibilità al vostro business di avere un rapporto molto lungo. In più passiamo al lavoro online. Come abbiamo già detto, la possibilità di digitalizzare ogni tipo di business. Quindi qua voi avete la possibilità di pubblicare direttamente l'estino prezzi oppure menu per ricevere gli ordini. qualcuno durante la pandemia ha dovuto chiudere, ma con YouGain voi evitate i casi simili perché avete subito tre possibilità. inviare le informazioni ad ogni vostro cliente con un click. Ad esempio avete cambiato l'ufficio oppure avete cambiato l'indirizzo. In più avete la possibilità di effettuare la consegna a domicilio. Quindi questo al 100% vi darà l'opportunità di mantenere il vostro business e di non diminuire il fatturato. Allora guardate, se voi lavorate già in internet allora potreste popolarizzare ancora di più il vostro brand. In più avete la possibilità della digitalizzazione della database e vi dà la possibilità di raccogliere i dati statistici e analitici. Ovviamente in questa maniera voi non avete gli imprevisti. non è importante dove state, sulla spiaggia oppure a casa dei vostri parenti in campagna. In qualsiasi momento potreste entrare nell'applicazione nel vostro smartphone e vedere quanti clienti avete avuto oggi, cosa hanno acquistato, quale articolo è stato venduto di più e come ha servito ai vostri clienti e al vostro personale. e ovviamente voi dovreste avere questa applicazione. Passiamo ad un'altra funzionalità importantissima, il sistema di motivazione dei dipendenci. Grazie a questa opportunità potreste controllare, migliorare e premiare anche il lavoro dei vostri migliori dipendenti. Evitate anche i conflitti tra i dipendenti e i clienti. In più, dentro la nostra applicazione i vostri dipendenti possono studiare, possono avere la formazione, possono studiare la qualità di prodotti nuovi, possono fare l'esame e studiare la nostra applicazione. Quindi possono anche vedere quanto sono stati efficaci, possono analizzare il lavoro proprio per avere più mance, più premi, più bonus. Grazie all'applicazione i vostri dipendenti avranno il desiderio naturale di diventare sempre migliori e di non aspettare in modo pigro la fine del loro tempo lavorativo, la fine del loro orario lavorativo. Guardate, questa è veramente una possibilità d'oro per tutti noi. Vediamo anche la possibilità flessibile di impostare il marketing. Voi da imprenditore decidete quale cashback oppure quale sconto siete pronti di dare alla vostra clientela. Potrete dare anche gli sconti diversi alle varie categorie delle persone. Magari voi volete svendere qualche merce oppure vorreste creare la richiesta più alta in questo mese e vorreste informare dell'offerta o della promozione a tutta la vostra clientela. Quindi scrivete un messaggio, inserite un'immagine e ogni vostro cliente riuscirà a sapere di questa opportunità. In più, uGain può chiamare i vostri clienti per nome. Cambiamo per favore la slide. E parliamo della funzionalità di uGain. Quindi, la prima cosa è applicazione mobile gratuita per i clienti. Il cliente tramite il codice QR si registra in questo business e da questo giorno lui ha il servizio, le offerte personalizzate, risparmia il tempo volendo cercare una merce o un servizio. In più, si apre anche la possibilità di avere lo sconto maggiore. Allora, se lui decide di fare questo, lui in quanto il vostro cliente vi darà la possibilità di ricevere anche un piacevole bonus. Il sistema lavora con le raccomandazioni e la cosa più interessante per i clienti è la possibilità di fare business con uGain. E se i vostri clienti fanno il business con uGain, più è alto il vostro guadagno. In più, abbiamo il programma di bonus. A tutti piace accumulare i punti. E qua i vostri clienti sono ancora più motivati perché hanno i bonus, hanno i punti non solo per gli acquisti propri, ma anche per gli acquisti dei loro amici o dei loro partner. Quindi, i vostri clienti vogliono attirare sempre più clienti nei vostri negozi e lo faranno nella maniera sempre più spessa perché, ovviamente, voi vi garantite un piccolo bonus. In più, ci sono gli ordini online. Questa è la funzione del tutto indispensabile al giorno di oggi. UGain se ne rende conto benissimo e quindi vi dà questa ottima possibilità. Proprio oggi potreste iniziare a lavorare online. E passiamo alla funzione prossima. Questo è il feedback. È importantissima funzione grazie a cui avete la possibilità di migliorare la qualità del servizio. E non dovreste chiedere adesso ai vostri clienti di lasciarvi un feedback. Dopo il pagamento, UGain chiede in automatico la valutazione e la recensione ai vostri clienti. Quindi, qua, voi avete la visione completa su quale merce o su quale settore del vostro servizio dovreste lavorare per migliorarlo. Grazie a UGain, voi riceverete la valutazione per ogni dei vostri clienti con l'opportunità di reagire subito ad un problema per risolvere questo problema. E quando noi risolviamo un problema del cliente, il cliente diventa sempre più leale. E ho sentito tanti esempi e l'altra estate sono diventato io un esempio simile. Guardate, ho ordinato una pizza e il corriere non arrivava nell'orario concordato e guardate, non è stata portata questa pizza. Mi hanno proposto di portare la pizza con lo sconto del 50%, non è arrivato il corriere e il supporto non lavorava più. Quindi mi hanno fatto tutte le scuse e mi proponevano di portare la pizza con lo sconto del 100% come un bonus. Guardate, ero veramente molto sorpreso, non ero deluso e siccome volevo andare dall'amico, mi hanno portato questa pizza. E lui mi ha chiesto, ma come mai che stiamo mangiando queste pizze? Io ho detto, guarda, è venuto in modo gratuito, quindi ho raccontato questa storia per una settimana a tutti gli amici. Guardate cosa succede quando noi risolviamo le problematiche del cliente. Quindi anche voi potreste creare un rapporto di fiducia con il vostro cliente. Quindi per favore fate gli auguri anche per le date importanti, per i compleanni, per le date di nozze, ad esempio. E poi un'altra funzione importante è il cross marketing. Per i clienti è un'opportunità di utilizzare i loro punti in tutto l'ecosistema YouGain. E questo dà la lealtà all'applicazione stessa. Quindi questa funzione vi crea anche la fonte di clienti in più. Come funziona? Il cliente registrato dall'altra parte vorrebbe acquistare, ad esempio, un regalo. E ovviamente vuole ricevere i punti e vuole avere un'offerta. Quindi entra nella carta del partner e vede che anche qua c'è un negozio di regale. E questo è il vostro negozio. Quindi entra online nella vostra lista. Vede le recensioni perché tu hai lavorato anche con le recensioni e le recensioni sono ottime. Ha la fiducia, viene nel negozio e acquista nel vostro negozio. Quindi grazie ad altro business tu hai avuto un nuovo cliente e adesso sta anche nel vostro database. e quindi tu vedi le sue esigenze. Tu gli puoi fare le offerte speciali, tu le puoi motivare per gli acquisti continui. E se gli è piaciuto il vostro, la vostra, se gli è piaciuto il tuo articolo, la tua merce, allora passa al programma di fedeltà anche del tuo negozio. In più tu gli dai dei punti per la raccomandazione e quindi questo un cliente diventa magari tre o cinque clienti. Guardate, YouGain è la possibilità di essere coccolato e di essere anche servito in modo migliore. YouGain è il vostro investimento nel ritorno dei clienti. YouGain vi propone gli strumenti di marketing per lavorare con il database dei clienti. YouGain può fare le offerte speciali seguendo anche le storie di offerte. e tu puoi scegliere se offrirgli un prodotto simile a quello che lui ha già acquistato oppure offrirgli un prodotto del tutto nuovo. In più abbiamo storie e le storie è la possibilità migliore. Guardate, tutta la mia generazione vede storie dieci volte al giorno. Quindi per favore dai dei bonus ai tuoi clienti. Loro guadagnano punti di benvenuto e sono contenti subito prima ancora di conoscersi. Allora, grazie anche alla messaggistica Push tutta la vostra clientela viene a sapere tutte le vostre novità. Passiamo alla slide successiva e vediamo come funziona questa applicazione. Il cliente scarica l'applicazione e si registra. Il cliente mostra il codice. Il cassiere scansiona il codice usando l'applicazione oppure lo inserisce manualmente. Dopo la scansione il cassiere riceve informazioni sul numero di punti bonus del cliente o sullo sconto per il cashback. Il cassiere riceve un pagamento ridotto del numero di punti o bonus disponibile. E dopo il pagamento il cliente riceve punti bonus e valuta la qualità del servizio e voi ricevete visite e vendite ripetute. Adesso passiamo alla slide successiva e per favore scrivetemi la somma nella chat come potreste valutare questo miglioramento del vostro business. Ricordatevi tutto quello che vi ho detto. L'automatizzazione del processo, dell'attrazione dei clienti e il feedback momentaneo e immediato. E anche il flusso di reddito grazie agli abbonamenti dei clienti, digitalizzazione e controllo, motivazione dei dipendenti, la formazione. Quindi il flusso dei clienti grazie alla funzione di cross marketing, strumenti per far funzionare il vostro programma di realtà. Quanto potreste pagare per tutti questi, per tutte queste funzioni straordinarie che adesso potreste trovare tutti nella stessa applicazione. Datemi il vostro feedback. Guardate, il costo non cambierà se me lo scrivete nella chat. Ok, mi scrivono 150 euro al mese. Grazie, grazie per la vostra slide. Carissimi amici, io vorrei farvi rallegrare. Guardate, questa applicazione è possibile per ogni business, per ogni imprenditore. Il prezzo è più basso di un caffè al giorno, è impensabile. Ragazzi, iniziate il lavoro. Iniziate a migliorare il vostro business subito ora. Grazie, YouGain, voi riuscite a guadagnare senza nessun problema. Scrivete subito al vostro invitante. Scrivete alla persona che vi ha regalato l'opportunità di ricevere le istruzioni in più. Ok, allora io vi auguro ogni bene, vi auguro il benessere e vi saluto. Grazie a tutti.